8 novembre 1986 muore il politico sovietico Vyacheslav Mikhailovich Molotov unico fra i rivoluzionari bolshevichi a sopravvivere alle purge staliniane degli anni 30 il suo nome è legato all'accordo con il ministro degli esteri tedesco Joachim von Ribbentrop il cosiddetto patto Molotov-Ribbentrop siglato nel 1939 un trattato di non aggressione fra la Germania nazista e l'URSS